In questa puntata voglio fare il punto della situazione per quanto riguarda le altcoin e dirvi soprattutto quello che io mi aspetto in questo momento dalle alt da qui alle prossime sedute perché ragazzi sono estremamente positivo quello che sta succedendo in questo momento su bitcoin è molto bello il che mi rende estremamente bullish sulle alt. Ora in questa puntata voglio dirvi quello che secondo me sta succedendo adesso sul mercato cripto quindi partiremo dall'analisi di bitcoin e poi andremo a vedere le altcoin quindi dominas di bitcoin e altcoin in prezzo di bitcoin successivamente voglio dirvi quello che io mi aspetto dalle altcoin da qua alle prossime sedute e infine quello che io sto facendo in questo momento con le altre. Quindi mi piace iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti iniziamo questi non sono consigli finanziari quindi fate sempre le vostre ricerche perché mi mette a rischio il vostro capitale all'interno dei mercati finanziari. Bitcoin 68 mila dollari iniziamo proprio dal grafico di bitcoin come sapete ragazzi prima di andare a parlare di altcoin dobbiamo capire in che situazione si trova bitcoin perché ragazzi se bitcoin fa schifo le altcoin non partono quante volte ve lo devo dire quindi prima di fare qualsiasi ragionamento guardiamo il grafico di bitcoin che è molto 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 bellice è molto bellish è praticamente un mischio tra bullish e bello è molto bullish anzi vi direi bellish nuovo termine perché questo perché come vi ho condiviso all'interno del mio gruppo completamente gratuito tartaro trades trovate il link qui sotto in descrizione dove vi condivido trade e analisi di mercato ragazzi bitcoin è molto vicino ai 70 mila dollari che è praticamente l'ultimo ostacolo prima di andare a fare dei nuovi massimi storici quindi l'ultimo 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 ostacolo che ci manca l'ultima resistenza poi ragazzi c'è il nulla praticamente siamo a un meno 8 per cento circa di distanza per quanto riguarda i nuovi a th quindi non siamo chissà quanto distanti da noi massimi storici siamo usciti da questo canale discendente che andava avanti da ormai 220 giorni e come vi ho scritto abbiamo anche superato la media 200 sul giornaliero il che top perché ci faceva un po da resistenza ci buttava giù siamo riusciti a superarla siamo usciti da questo canale discendente che seguivamo praticamente da marzo quindi top tra l'altro ottobre ha iniziato male ora siamo ritornati in uptober e con una settimana da più 8 per cento ragazzi siamo sul mensile a un praticamente più 7.47 per cento quindi la situazione di mercato non è male per quanto riguarda bitcoin siamo e stiamo facendo anche massimi crescenti come potete notare i massimi sono sempre più alti e i minimi sono anch'essi sempre più alti quindi tanta tanta roba per cui ragazzi il grafico di breve termine è ottimo e siamo in una tendenza di breve termine rialzista il che fa ben sperare per quanto riguarda le altcoin tuttavia mi potreste dire ma fede ma cosa stai dicendo comunque nell'ultimo periodo non è che le altcoin abbiano fatto chissà quanto bene infatti come vi ho scritto anche all'interno del mio gruppo questo è normale cioè vedere in questo momento una difficoltà delle alte poi a livello generale perché chiaro ci sono altcoin che stanno facendo molto bene e faccio questa premessa perché se no mi arrabbio se ancora non avete fatto l'accesso al mio report completamente gratuito sulle altcoin che trovate qui sotto in descrizione vi dico quali sono le altcoin che dovete tenere sott'occhio per questa bullrun e quelle che anche io sto tenendo sott'occhio per questa bullrun vi dico esattamente in queste serie di lezioni super formative quello che dovete fare in maniera intelligente per studiare correttamente e analizzare correttamente questo settore quindi quali sono le altcoin giuste e quali non sono le altcoin giuste da guardare cosa bisogna fare attenzione quali sono i criteri di scelta quali sono secondo me le altcoin che potrebbero far meglio e quelle che potrebbero far meno meglio quindi tutte queste cose qui gli errori da non fare eccetera eccetera le trovate all'interno queste lezioni informative del mio report della coin un report che viene costantemente aggiornato di due mesi ogni due mesi ok non di mesi in mese perché alla fine non è che ci sia successo chissà cosa in quest'ultimo periodo sui cripto però periodicamente viene aggiornato quando saremo nel pieno dell'alt season ragazzi in quel periodo di 6 8 10 settimane in cui tutto esplode lì l'aggiornamento sarà una volta a settimana una volta al mese ok però la cosa importante è se ancora non avete fatto l'accesso non aspettate ragazzi è ora il momento di avere una strategia di investimento non potete arrivare dopo come tutti è ora ragazzi velocità non dovete stare lì a dormire io purtroppo lo vedo c'è gente che magari mi ha richiesto l'accesso al report dell'alcoin a maggio oppure ancora addirittura luglio 2023 quando ho creato questo report completamente gratuito e se vado a vedere i prezzi da luglio 2023 ad oggi cioè io dico non dovete dormire dovete agire perché quando le cose e se le cose andranno come io credo il che non è ovviamente scontato bisogna trovarsi pronti ragazzi non dovete aspettare quindi forza veloci cliccate il link che trovate qui sotto in iscrizione è gratuito chiedete le istruzioni per ricevere questo report e noi ve lo diamo quindi assistenza tartarrodo su telegram comunque qui trovate tutti i dettagli nel link in descrizione perciò perciò bitcoin in questo momento è positivo ok bitcoin sta facendo bene il che è ottimo ora è normale vedere l'alcoin fare non bene perché perché siamo in una fase in cui è ancora bitcoin che guida ok è bitcoin che guida in più in questo momento siamo ancora in una situazione in cui la liquidità non è esplosa di mercato il che comunque va a incidere no un po' sul sull'economia che c'è all'interno del settore cripto e successivamente concetto un po' più avanzato quindi ci vado anche un po' veloce abbiamo anche il DXY cioè il dollaro praticamente che è cresciuto molto in questi ultimi giorni per chi fa forex sicuramente l'avrà notato guardate euro dollaro come è calato di conseguenza bitcoin è quotato in dollari perciò la difficoltà che non c'è stata è un ulteriore segno di forza perché il dollaro ragazzi è salito e cresciuto in questo ultimo periodo perché è cresciuto e salito perché ci sono stati dei dati macro positivi la disoccupazione non è salita negli Stati Uniti i tassi di interesse si avevano iniziato ad abbassarli ma questo fa un po' rallentare no le economie sulle politiche super espansive della Fed perciò il dollaro si sta potenziando anche perché poi ora è area euro comunque un po' in difficoltà quindi il dollaro è cresciuto molto tutto questo ovviamente bitcoin non l'ha sentito però è ovvio che in questa condizione di mercato ci sta vedere le alcoin non fare chissà quanto in più ricordo che l'interesse retail sul mercato è praticamente bassissimo guardate l'ultimo video che ho fatto sulle alcoin ragazzi ha fatto 2600 visualizzazioni ma di cosa stiamo parlando quindi non c'è ancora quella quel fermento e se andate a vedere il mio canale non è che ci sono stati incrementi di visualizzazioni a parte vabbè gli ultimi video riguardanti le tasse che tutti sono esplosi però cioè ragazzi non c'è stata una salita questo significa che ad oggi mancano ancora gli investitori retail tra l'altro mettete un mi piace scrivetevi al canale se non siete ancora iscritti quindi viviamo ancora in una bolla che è noi che seguiamo le crypto ogni giorno quindi mancano gli investitori retail perciò di conseguenza è normale vedere ancora le altre fare fatica tra l'altro ragazzi se volete sfruttare al meglio la volatilità che c'è in questo momento sulle crypto Bybit sta regalando una posizione di trading dal controvalore di 500 dollari a scelta su bitcoin, ethereum, solana, pepe, dogecoin e altre criptovalute a tutti i nuovi utenti che si registrano sull'exchange attraverso il link che trovate in descrizione la posizione può essere sia long che short con stop loss e take profit a piacere qualsiasi profitto dalla posizione potrà essere prelevato mentre se andrà male perderete solo il bonus per ottenere tutto questo bisogna registrarsi a Bybit con il link in descrizione dato che si tratta di una promo esclusiva per la mia community fare la verifica dell'identità e depositare almeno 100 dollari sull'account infine basterà semplicemente fare il claim del bonus dalla sezione rewards hub questa super promo scade tra pochi giorni per cui non fatevela sfuggire dato che secondo me al momento è il miglior bonus di benvenuto tra tutti gli exchange cripto poi abbiamo bitcoin che è una fase di lancio speriamo che vada appunto a fare nuova TH ma in questa fase è normale vedere bitcoin prendere la leadership del settore come notate da questo grafico che vi va a confrontare la dominance di bitcoin e praticamente il grafico di bitcoin cosa noterete? noterete che la dominance di bitcoin scende quando effettivamente bitcoin va a fare dei nuovi massimi storici ragazzi lo trovate qua guardate lo disegno qua guardate nuovi massimi storici guardate a che livello era la dominance ok qui ho fatto la linea un po' storta però ecco perfetto non ho migliorato eccoci qua disegno libero ragazzi non ero molto bravo in tecnologia allora a parte gli scherzi guardate vedete finché non si fanno dei nuovi massimi storici in maniera importante cioè non mille dollari in più la dominance continua a salire qui l'ultima volta dove siamo andati poi effettivamente a esplodere verso l'alto la dominance è scesa stessa cosa è successa anche qui seppur in maniera meno importante perché qua era tutto il periodo effettivamente dove sono nate le altcoin guardate come si era un processo che comunque stava andando già era un attimo rallentato quando bitcoin è andato a fare i nuovi massimi storici per poi esplodere e fare proprio l'ultima grande alt season con i top ok quindi quando bitcoin fa dei nuovi massimi storici e va a fare quell'ultima parte del ciclo è lì il momento in cui le altcoin fanno meglio di bitcoin esplodono infatti la dominance scende se andiamo a vedere il grafico unico della dominance di bitcoin e adesso voglio proprio farvelo vedere perché è importantissimo noterete come in questo momento la dominance è in una situazione di forza la dominance ha fatto dei nuovi massimi locali quindi chi vi diceva ragazzi bitcoin comunque leader bitcoin è il king il sottoscritto guardatevi tutti i report dell'alcoin per dirvi che non sono un buffone e che mento basta vedere il report dell'alcoin dove vi dico esattamente questo che finché non accadono in determinate situazioni era normale vedere questo scenario infatti è stato ed è per questo che io all'interno della tana tartaruga dove mostro effettivamente il mio portafoglio di investimento analisi approfondite trovate il link qui sotto in descrizione per iscrivervi alla mia community privata sono sempre stato estremamente focus su bitcoin e sulle alt ho fatto estremamente attenzione a parte magari qualche speculazione su determinate alte che infatti hanno performato bene perché siamo andati su determinati settori o meglio sono andato su determinati settori che hanno performato molto bene e meglio delle alcoin in generale ma dovete fare attenzione a queste cose quindi in questo momento io sono molto positivo sull'alcoin e adesso vi spiego anche quando secondo me vedremo una presa di forza dell'alcoin perché c'è questa situazione su bitcoin se questa situazione su bitcoin non ci fosse se la dominance non salisse se bitcoin non salisse cioè non ci sarebbe nessun alt season l'alt season si verifica se bitcoin va a fare dei massimi storici e la dominance nello stesso momento sale come sta salendo in questo momento ci sono delle politiche monetarie che comunque ci vanno a sopportare se andiamo a vedere cosa è successo in questo ultimo periodo ragazzi abbiamo taglio della BCE giovedì come ho scritto all'interno del mio gruppo completamente gratuito Tartorod quindi non quello dedicato ai trades ma quello dedicato alle notizie economiche BCE taglia i tassi di 25 punti base quindi cosa significa? Soldi all'interno del mercato abbiamo poi visto la Cina che si trova in difficoltà perché i dati macro cinesi, le export e l'import cinese crescono molto bene quindi devono stampare soldi devono continuamente creare nuovo denaro devono continuamente creare e supportare l'economia Cina says will significantly increase debt to revive economic growth chi se ne frega del mio inglese ma praticamente la Cina deve aumentare in modo significativo il debito per stimolare l'economia il che se non ve l'ho condiviso in questi giorni ma notizie comunque parlano anche di un debito USA che è ai massimi storici e cosa abbiamo tra due settimane? le elezioni ok? come vi ho scritto anche qua nel gruppo le elezioni tra circa due settimane saranno il principale fattore di volatilità nel breve termine questo cosa significa? significa che quando ci sono le elezioni i soldi come i debiti continueranno ad aumentare ragazzi tutti i governi del mondo aumentano debito guardate l'Italia ma anche i Stati Uniti continueranno a creare nuove politiche in cui c'è nuovo debito in più la Fed ormai si vanno a incontrare il 7 novembre quindi tra tre settimane ragazzi nuovo taglio di tassi di interesse da 25 punti base quindi nuova liquidità all'interno del mercato in più abbiamo un'inflazione che inizia un po' a spaventare che lo sapevamo e arriverà ragazzi un'inflazione che salirà ed è una cosa che bisognava comunque aspettarsi non è una cosa che uno dice ah vabbè non me l'aspettavo perché la disoccupazione è comunque bassa l'occupazione è forte poi sono qui a vedere insieme a voi i dati quindi le cose potrebbero cambiare ma ragazzi semplicemente andando a vedere un po' quello che succede l'inflazione sta scendendo sì ma non come è previsto perché è ovvio quando crei denaro dal nulla e l'occupazione, il mercato del lavoro rimane forte è ovvio scontato che l'inflazione tornerà a salire quindi in questo momento dovete capire che è tutto in ritardo quindi le politiche che stanno facendo adesso avranno un risultato tra qualche mese ma vedremo l'inflazione a salire infatti questo mi preoccupa per il 2025 ma abbiamo comunque nuova liquidità sul mercato il che ragazzi semplicemente porterà a un nuovo flusso di denaro all'interno dei mercati risk on come le azioni e come le criptovalute di conseguenza le cripto secondo me faranno molto bene e soprattutto le altcoin troveranno la massima diciamo come posso dire valorizzazione no non lo so la massima in momento migliore di fioritura nel 2025 perché dico questo? perché guardando comunque tutti i cicli di bitcoin che ci dicono che nell'ultimo periodo dell'anno bitcoin storicamente fa molto bene ok rispetto alle altcoin quindi abbiamo che nell'ultimo trimestre dell'anno statisticamente bitcoin fa meglio dell'altcoin cioè il miglior momento il miglior periodo per bitcoin è proprio l'ultimo dell'anno e se andiamo a vedere anche cioè l'ultimo trimestre se andiamo a vedere anche com'è il prezzo di bitcoin 68 mila dollari sta salendo quindi si sta prendendo forza e siamo già praticamente a metà ottobre oltre metà ottobre quindi è normale vedere nuovi massimi su bitcoin dominance che sale e poi lasciare spazio alle altcoin perché le altcoin quando è che fanno il miglior momento? nel primo trimestre del 2025 vediamo come statisticamente ovviamente passato non può essere un che un indicatore del futuro questi non sono così io non sono un costante finanziario per cui fate sempre i vostri cicli prima di mettere il rischio e il vostro capitale interno dai mercati finanziari quello che voglio dire è storicamente le altcoin tendono a fare molto bene nel primo trimestre del 2025 perché? perché Ethereum fa bene nel 2025 se andate a vedere la stagionalità i periodi storici in cui Ethereum fa bene è proprio il primo trimestre del 2025 in più stiamo vedendo anche in questo momento dei buonissimi flussi in entrata sugli ETF spot ok soprattutto di bitcoin quelli di Ethereum stavano facendo fatica ma io credo che siamo in una somma di capitolazione come ho spiegato anche all'interno della Tana se volete maggiori approfondimenti su queste cose ragazzi più avanzate entrate all'interno della Tana tattaluga cacchio trovate il link qui sotto in descrizione credo e siamo sono convinto che siamo un po' vicino a un bottom di conseguenza io mi sto posizionando anche in determinati modi in questo momento non vi dico esattamente tutto se volete entrare ragazzi un po' di romanticismo entrata all'interno della Tana ma in questo momento mi sto muovendo che rimango comunque focus principale su bitcoin perché credo che almeno comunque ancora per leggermente perché non penso che la dominance possa salire ancora più di tanto di così eh però rimaniamo ancora focus su bitcoin quindi focus su bitcoin ma con l'ottica che bisogna avere una strategia ora per le altre se volete una strategia ragazzi sapete dove andare soprattutto c'è pure il report gratuito quindi più di così non so cosa dirvi perché io sono convinto che non appena bitcoin andrà a fare nuovi massimi storici e ragazzi spoiler secondo me li andrà a fare perché andrà a rispettare la sua ciclicità andrà a rispettare il ciclo e anche questo ciclo andrà a vedere nuovi massimi storici per quanto riguarda bitcoin dopodiché ragazzi ci sarà da divertirsi sulle altre abbiamo nuova liquidità costantemente sul mercato abbiamo dei soldi che valgono sempre meno siamo praticamente sui massimi storici del vecchio ciclo ragazzi siamo a 69 68 mila dollari quindi credo che sia solamente una questione di tempo non c'è ancora l'interesse retail il che è normale abbiamo le elezioni USA alle spalle cioè alle spalle proprio qua attaccate quindi io credo e sono convinto come sia solamente una questione di tempo prima di vedere le nuove ATH su bitcoin ovviamente salvo ragazzi che non succedano robe cioè disastri nel mondo ma vedete anche l'SP500 nuovi massimi storici il che tanta roba per i mercati infatti l'SP500 sta salendo anche bitcoin sta salendo gold massimi storici ragazzi cosa devo dirvi devo dirvi che in questo momento gli asset risk on stanno facendo bene perché c'è liquidità nel mercato ed è solamente secondo me una questione di tempo prima che vedremo questo sulle altre tuttavia sulle altre bisogna muoversi in una maniera abbastanza attenta se non si sa quello che si sta facendo meglio non far niente io lo dico sempre ragazzi meglio piuttosto non operare con le altre perché sono asset rischiosi estremamente volati quindi se sapete quello che state facendo come sottoscritto tanta roba se volete imparare ad operare con le altre sapete dove andare ci sono risorse gratuite con il report dell'alcoin o comunque se volete passare direttamente al pro c'è la tana tartaruga dove comunque troverete anche lì il report dell'alcoin e soprattutto live private chat eccetera eccetera ma quello che voglio dire è dovete avere ora una strategia di investimento ragazzi perché poi purtroppo è tardi io lo dico non aspettate non fate quelli che poi agiscono fanno le cose e studiano quando vedono il candelone verde perché sennò ragazzi siete semplicemente delle scimmie a cui si accende il neurone quando vedono la candelona verde non fate questo sbaglio